E' ancora troppo lenta la transizione ecologica del settore dei trasporti nel nostro paese e la fotografia scattata da Pendolaria 2023, il rapporto annuale di lega ambiente sul trasporto ferroviario in Italia ed il divario tra nord e sud è insostenibile. E' la Puglia non fa eccezione, conta un totale di 1542 km di rete ferroviarie di cui 929 km a binario doppio e 613 a binario semplice, il 39,7% sono invece 881 i km elettrificati e 661 non elettrificati. Sui sistemi di sicurezza sono 699,5 i km con sistema SCMT e 133 con sistema SSC. Il processo di riconversione dei trasporti è fondamentale, dichiara Ruggero Ronzulli, presidente di lega ambiente Puglia. Lo è se vogliamo rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo, del taglio delle emissioni del 55% entro il 2030 e del loro azzeramento entro il 2050, visto che il settore è responsabile di oltre un quarto delle emissioni climaalteranti italiane che in valore assoluto sono addirittura cresciute rispetto al 1990 e in questo scenario la Puglia deve fare passi coraggiosi. Qui crolla il numero di viaggiatori rispetto al periodo prepandemico con un meno 65,1% passati da più di 150.000 viaggiatori al giorno nel 2019 a poco più di 50.000 nel 2021. Altro indicatore è quello del numero di corse che in Puglia si attesta a 889 posizionandosi a metà classifica in Italia, tra la prima, la Lombardia, con 2.173 corse e il Molise con sole 28 corse. Per quanto riguarda invece l'età media del parco treni circolante, in Italia la media è di 15,3 anni e la Puglia si attesta su quel dato con una flotta di 15,5 anni di anzianità su un totale di 170 treni e il 43,4% dei treni con più di 15 anni.